E' nella splendida cornice delle Terme Tettuccio a Montecatini in occasione della semifinale del concorso di Miss Montecatini che è stata presentata ufficialmente la squadra della Montecatini Terme Basketball. I giocatori rosso-blu hanno sfilato insieme allo staff tecnico e a tutti i massimi dirigenti della società. Davanti ad un numeroso pubblico i tifosi hanno potuto conoscere meglio quelli che saranno i protagonisti del prossimo campionato di Serie B, il quinto consecutivo. Sì, ci troviamo probabilmente nel posto più bello, o comunque l'uno dei posti più belli della città per cui la storia e il prestigio di questo posto sicuramente ci spingono a voler restituire un po' di tutta questa importanza nella stagione che verrà. Non abbiamo obiettivi, non abbiamo neanche limiti, la squadra è fatta di tantissimi giovani per cui la squadra è tutta da scoprire. Ci auguriamo che quest'anno, ancora di più degli altri anni, il pubblico sia un valore aggiunto perché questa squadra ha bisogno, la città ne ha bisogno. Quindi ringraziamo tutti.